Ciao a tutti, siamo nuovamente sul canale video di Notebook Italia per parlare di accelerazione hardware sui notebook e netbook MD Fusion. MD sta infatti lavorando con una serie di partner per favorire la nascita di una nuova generazione di applicazioni ottimizzate per sfruttare i benefici della compenetrazione di CPU e GPU all'interno dei chip Fusion. E in questa prova ci occupiamo specificamente di come possa essere utilizzato il motore di decodifica hardware UVD, Unified Video Decoder, per velocizzare le operazioni di video editing. Per questa demo ci serviremo di un notebook MSI SlimX 370 equipaggiato con un processore MD-350 quindi MD Fusion ma nella versione zacate, la versione di fascia più alta, di un netbook Aceras Fire One 522, basato sempre su piattaforma MD ma con corontario e processore MD-100.